Musica Benvenuti alla Rassegna Stampa, occhio ai giornali di oggi, mercoledì 29 novembre 2017. Cominciamo dal santo del giorno, il santo che oggi la Chiesa ricorda è la Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, il sole sorto alle 7.19, tramonterà alle 16.33. Il tempo previsto sulla regione Marche per la giornata di oggi, precipitazioni deboli diffuse localmente anche a carattere di rovescio, in particolare nelle zone interne, il limite delle nevicate è attorno ai 1500 metri, le temperature sono in aumento. I venti soffieranno nelle zone interne moderati con raffiche di vento forte e lungo la costa saranno da sud. Per domani, giovedì 30 novembre, il tempo peggiora ulteriormente, avremo brevi rovesci sparsi nella prima parte della giornata in completo esaurimento però da domani pomeriggio, il limite delle nevicate sarà attorno ai 1000 metri. La situazione migliora leggermente per il primo di dicembre, quando avremo un cielo parzialmente nuvoloso con un aumento delle nuvole stratificate però dal pomeriggio. Deboli piovaschi sparsi nella seconda parte della giornata, le minime della notte saranno in diminuzione mentre aumenteranno quelle del giorno. I venti sono di brezza tesa, un po' di vento, aria artica arriverà anche nei prossimi giorni, intorno a sabato e farà sì che ci sarà una debole instabilità nel corso del fine settimana. Allora, cominciamo a leggere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, il quotidiano più letto dai marchigiani, si finge medico per visitarla e per poterle rubare la collana d'oro. È una notizia che trovate in esclusiva sul giornale, donna sul quotidiano il Corriere Adriatico, donna tenta di raggirare una pensionata ma l'anziana reagisce e la fa scappare. La vedremo tra poco nelle pagine interne. La fotonotizia è per l'inchiesta che il Corriere Adriatico fa con un viaggio nell'edilizia sanitaria dopo fiumi di parole, l'Innerca è ripartito, dunque i cantieri sono vicini per il Salesi e per l'ospedale di Fermo. Il titolo è, vedete, ma gli ospedali si fanno sì oppure no? La pagina di Fano, i soldi che sono arrivati al Carnevale, 2 milioni di euro per i Carnevali storici, ovviamente tra questi c'è anche il Carnevale di Fano, la finanziaria pensa anche alla Città della Fortuna, l'emendamento adesso attende il Via Libera alla Camera. Ruggeri dei Cinque Stelle però insiste, facendo il Carnevale, rimettendo il Carnevale gratuito, rinunciamo alla qualità. E il discorso che fa Marta Ruggeri, intanto questo, vedete, è il Voulon, che è la maschera storica del Carnevale di Fano, che quest'anno ha proprio anche un'immagine simbolo, che ha un logo, se vogliamo, che ha un'immagine caratteristica, come può essere Pulcinella, eccetera, eccetera. Quindi Roberto Zaffini, grafico, ha fatto, ha realizzato questa maschera. Appunto è una maschera bella, che riguarda il Voulon. Ma torniamo, dicevo, parliamo di questo, entriamo un attimo nel concetto del biglietto sì e no. Marta Ruggeri, dicevo, dei Cinque Stelle, con i maggiori contributi e il biglietto d'ingresso, il 2018 avrebbe sancito la rinascita del Carnevale. Quindi, voi sapete che il 2018 sarà comunque un Carnevale gratuito, però Marta Ruggeri guarda avanti e dice ora aspettiamo di vedere i contenuti, appunto, dell'edizione 2019, per verificare se in quell'occasione si introdurrà davvero il biglietto d'ingresso, ingresso in vista di un reale rilancio della manifestazione fanese più antica, oppure, se ancora una volta, si inseguiranno le pulsioni di certa politica. Eccola qua, la chiave di lettura che secondo me è giusta, quella della Ruggeri, che in vista delle eminenti elezioni comunali spingerà per la scelta più demagogica. Siccome nel 2019 a Fano si vota per eleggere il nuovo sindaco, insomma, l'amministrazione comunale potrebbe aver pensato, ma forse sarà meglio aspettare e così andremo avanti all'infinito. Continuare dunque sulla falsa riga degli ultimi anni, tarpando così le ali ad una risorsa inestimabile che ci ostiniamo a non voler valorizzare appieno dal punto di vista culturale e turistico. Tutto il Marta Pensiero è sulla pagina 38 del Corriere Adriatico, ma si parla anche di turismo sulla pagina principale del Corriere Adriatico, perché i dati non sono così entusiasmanti. Lì ha snocciolati l'assessore al turismo Stefano Marchigiani, che dice che ci sono state quasi 10.000 presenze in meno che in qualche modo hanno fatto segnare un segno meno. Però c'è anche il motivo. Il turismo è stato penalizzato nella nostra città da terremoto, ma questo è stato penalizzato un po' tutta la Regione, e dalla Quadrilatero. L'assessore punta il dito contro i flussi di vacanzieri dirottati nel sud delle Marche, perché sapete, la strada Quadrilatero, chi viene dall'entroterra, anche dall'Umbria, durante l'estate, essendoci stati lavori su gran parte delle arterie stradali, questi trovandosi di fronte a gallerie chiuse, deviazioni, eccetera, hanno preferito andare sulla strada nuova che è stata realizzata un po' più a sud e quindi sono andati tutti al mare da Senigallia in giù. Poi c'è il problema, e qui lo andiamo a leggere sotto, del sequestro, Alcalo è un fatto del sequestro di 24 bungalow del camping Stella Maris. Alcalo ha contribuito sensibilmente anche alla situazione di questo camping, dove sono stati posti sotto sequestro dalla magistratura 24 bungalow e quindi il che ha comportato queste 9.600 presenze in meno per quest'anno. E l'effetto terremoto, chiaramente l'effetto terremoto è contato, perché stiamo pagando, dice ancora Marchegiani, l'effetto terremoto che ha coinvolto a torto la nostra provincia. A torto perché? Perché qua non è successo nulla. Il terremoto c'è stato nelle Marche, ma c'è stato nel sud delle Marche. Come sapete, però quando si generalizza, anche dal punto di vista mediatico, in tutta Italia si parlava di Marche, 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 le Marche ci siamo anche noi. Ed è l'attivazione della Quadrilatero che ha mutato la direzione dell'afflusso turistico nel sud delle Marche. Quindi queste sono le cause di questo calo, il calo dei turisti a Fano. Sempre dal Corriere Adriatico. Il caso degli arredamenti, degli arredi, non degli arredamenti, degli arredi urbani in centro storico, il regolamento è nullo, il commercio medita il ricorso al TAR, lui di l'assemblea degli operatori, la decisione è in attesa, quindi abbiamo, cominciamo a segnali, abbiamo questa parola che è straniera, poi stand by, stand by è un'altra parolina, fino all'incontro di domani con il sindaco. Si poteva scrivere anche tomorrow, con il mayor, no? Possiamo anche tradurla, farla in inglese. Il dottore, ecco, questa invece è la notizia d'apertura, sulla quale quando ci sono gli anziani di mezzo noi ci soffermiamo sempre un po', lo facciamo da 12 anni, quando da 12 anni che facciamo la rassegna stampa, tutti i giorni raccomandiamo agli anziani di fare attenzione, tutti i giorni. Questi purtroppo sono anche furbi i ladri, questa volta, questo qui, questa donna, si è fatta, o meglio, ha tentato di raggirare una pensionata con la scusa di disturbi alla tiroida. Allora, la scusa qual è stata? Il dottore è malato, signora, la visito io. Si finge medico per strapparle la collana. Donna tenta di raggirare una pensionata con la scusa di disturbi alla tiroida, l'anziana reagisce e la fa scappare. È accaduto dove? A Vismara, pesarese, insomma. È un episodio simile, era già successo, però poco tempo fa, sempre in un quartiere a Soria, questa volta. Una signora anziana di 72 anni è stata avvicinata da una donna che si è finta, una dottoressa, una presunta sostituta del dottor Silvi, chiamata a prenderne il posto temporaneamente a causa di un grave problema di salute che aveva portato il medico a un improvviso ricovero in un istituto specializzato in Milano. Pensa un po', questa dove è andata a finire. Tutto il racconto scritto da Simonetta Marfoglia sul Corriere Adriatico di questa mattina in Edicola. Il funerale, e qui siamo sulle pagine di Pesero, il funerale dell'arbitro internazionale Gianluca Mattioli, ieri c'è stato il funerale in Duomo a Pesero, un Duomo strapieno, ci ha insegnato che la vita continua, Babbo, sarai sempre la nostra guida. La figlia di Gianluca Mattioli, Valentina, eccola qui mentre legge una lettera alla fine della cerimonia, alla fine del rito funebre, una commovente lettera al papà. E queste sono le fotografie con il feretro, vedete, all'interno della chiesa e qui all'uscita sul sagrato del Duomo. Un Duomo, ripeto, pieno, stracolmo di gente. La pagina di Senigallia, si vota per l'Unione dei Comuni, ma c'è il nodo dei Vigili Urbani, i sindacati, nessuno ci ha informato, non ci sono le risorse per il comando unico della Polizia Locale. Andiamo ancora sulle pagine di Senigallia, perché? Perché oggi si discute ancora su quella maestra troppo severa, di questi insegnanti troppo esigenti, che ieri ha trovato spazio sul giornale, dopo la segnalazione di una mamma su Facebook. Riga sulla schiena, insulti ai meno bravi a Montignano, dibattito infuocato sulle denunce social. Insegnanti troppo esigenti, no, colpa di padri e madri, la visita di Mangialardi, del sindaco, nella scuola che vedete qua sulla fotografia, la scuola di Montignano, al centro del dibattito di questi giorni. Si è discusso ieri sul fatto che questa mamma, al posto di andare dalla polizia del carabiniero a avvisare, insomma, chi di dovere, ha fatto tutto a modo suo e ha denunciato questa cosa sui social. Insomma, un po' una roba un po' fatta così. Allora, delitto Lulli, siamo sulla pagina di Urbino del Corriere Adriatico, fissato l'appello il 24 gennaio in Corte d'Assise, appuntamento in Tribunale d'Ancona, Azole e Taurmina e due avvocati chiedono un superperito. In ballo c'è anche Ambera, ma su di lei c'è un'indagine in corso. Salvatore Azole è illegale di Igli Meta, che è già stato condannato ed è in carcere. Questa è la pagina di Urbino, andiamo sulla pagina di Cagli. Si opera a Lanca, in Romagna, la riabilitazione però è un'odissea. Mala sanità. Servizio prenotato a Cagli, cancellato senza spiegazioni, poi una serie di no e di rimpalli. Andiamo sulla Valle del Cesano. Tari, mancano risposte. Le rassicurazioni del Sindaco non convincono il Comitato per la Salute Pubblica. Ha presentato un nuovo quesito sulle modalità di calcolo della tassa nella parte variabile. Dubbi sulle pertinenze dislocate in un altro immobile, ubicato nello stesso comune. Piante pericolose a San Costanzo, via all'abbattimento, lavori contro il rischio di crolli saranno eseguiti in via tomba tra le frazioni di Camminata e Cerasa. Già emessa l'ordinanza del Comune da oggi fino al 9 di dicembre. Il transito sarà vietato dalle 8.30 alle 17.30. E adesso andiamo sulla pagina di Pesole Provincia per questa notizia che riguarda Monbaroccio. c'è aria di Natale con il Mercatino delle Meraviglie da sabato nei fine settimana e nei festivi. Torna l'iniziativa a chiappa visitatori. Andiamo sul Carlino, apriamo la pagina principale, l'unico parchè, l'ultimo, scusate, parchè di Gianluca. Tantissimi in Duomo per l'addio all'arbitro internazionale di basket, Mattioli, presenti i vertici della federazione, toccante il messaggio della figlia Valentina. La pagina di Fano sui The Hors ci ha costretto la soprintendenza, dice l'assessore all'urbanistica Marco Paolini, poi il ritorno della Fano dei Cesari, il ritorno delle bighe, intanto si va a caccia di sponsor, progetto da 150 mila euro della durata di una settimana e non dico nulla ma sarà un buco nell'acqua. Case in abbandono, via libera agli espropri, questo è il titolo, questa sera un consiglio monotematico, siamo a terre roveresche per illustrare e votare l'atto, dopo San Giorgio Sebastianelli rilancia, giusto ridare al popolo i beni che non sono utilizzati. E poi l'intervento è riuscito ma la paziente muore, la procura chiede il processo per il primario l'accusa è di omicidio colposo dovuto ad imprudenza e imperizia, la donna deceduta aveva 38 anni e un figlio di 5 e soffriva di dolori al trigemino, la figlia è stata risarcita e il chirurgo la operò al trigemino, sono i nervi che si trovano qua nel viso, il trigemino, e il 4 settembre 2013 questa giovane donna, Nadia Bolletta, è di 38 anni con un bimbo di 5 dipendente dell'ufficio postale di Cingoli, era affetta da una malattia degenerativa, la paziente morì, adesso il primario, il dottor Morabito aveva sostenuto che l'eccesso era stato indotto dalla malattia, però adesso potrebbe andare al processo, chiede la procura il processo. Ancora la pagina di Pesaro del resto del Carlino, anche qui il tuo sorriso in ogni fischio, mille persone in Duomo per Gianluca, e poi ancora al parcheggiatore abusivo, siamo al parcheggiatore abusivo, Maxi Multa in zona cimitero, siamo a Pesaro, verbale da 700 euro, se paga entro 5 giorni. Diverse sequestrate ieri, le borse contraffatte, diverse sono state sequestrate ieri durante il mercato ai venditori senegalesi, ed eccole qua, le borse che sono state sequestrate ieri al mercato, l'ultima pagina è di Urbino, non si può pagare per i cani di altri comuni, Francesca Crespini del gruppo CUT, versati 80 mila euro al canile di Caluccio. Ok, noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita, ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale, vi ricordo che è al 338-4968-250, ecco qua il nostro numero di telefono, a questo numero potete come sempre inviarci i vostri messaggi, le vostre segnalazioni, le foto, fare anche delle video segnalazioni, proprio riprenderle con il telefonino e inviarcele e collaborare dunque con la nostra redazione. 20.30 c'è, dicevo, occhio alla notizia, grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie a tutti.